finestre scorrevoli con vasitas ovvero con apertura ribalta ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi questo tipo di finestra scorrevole con apertura ribalta o apertura vasista di come la vogliamo chiamare è l'unico tipo di vetrata scorrevole che sconsiglio vivamente perché la sconsiglio perché in realtà si tratta di un infisso a battente camuffato da finestra scorrevole e questo come avviene questa camuffatura vengono installate delle guide nella parte bassa nella parte alta applicate a vista con anche dei goffi materiali plastici delle cose molto brutte da vedere e poi c'è un meccanismo a pantografo che fa traslare l'anta verso l'interno questi tipi di meccanismi oltre a essere brutti sono anche meccanismi che danno tantissima manutenzione e nel tempo quando si rompono è veramente difficile trovare pezzi di ricambio il che significa cambiare tutta la ferramenta inoltre questo tipo di scorrevole sia il vantaggio che la prestazione è quella di un infisso battente quanto è chiuso perché non è un vero scorrevole però cosa succede sotto avrò un inciampo a pavimento molto molto alto quindi nell'ordine dei 6 7 8 centimetri a secondo del materiale e della marca di finestra che vado a prendere e un inciampo secondo me c'è veramente troppo grande in un infisso esiste solamente un brevetto sciuco creato nel 2020 dove si può incassare tutto pavimento anche questo tipo di scorrevole però corre fare a monte c'è praticamente una predisposizione veramente importante impensabile in ristrutturazione e senza opere murarie ma magari pensabile in una nuova costruzione però rimangono i problemi comunque di questa ferramenta molto molto delicata faccio un esempio per spiegarti in parole povere che cosa intendo se io prendessi questo tipo di finestra anche se la faccio io come bisacchi che cerco di lavorare al meglio e la vado a installare in un albergo dopo una settimana mi chiamano che non funziona più perché lì la usa una persona sempre diversa tirano e aprono non capiscono come si apre come si chiude se io installo invece una finestra scorrevole di quelle alzanti quelle che si alzano e scorrono mi chiamano dopo dieci anni e fatti ma questa finestra ancora funziona non ci abbiamo mai fatto niente lo scorrevole alzante è uno scorrevole che devi fare lo scorrevole parallelo quindi quello con vasista arrivata è uno scorrevole che ti sconsiglio se ti serve consulenza per scegliere qual è la migliore tipologia da abbinare casa tua nella sostituzione a secondo delle dimensioni e della prestazione che vuoi ottenere puoi valerti il servizio di consulenza con sistema bisacchi un servizio che ho ideato per aiutare tutte le persone lontane dalla bisacchi che non possono servire direttamente senza conflitto di interessi se vuoi sapere di più vai su www.blogvisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata fai presto perché ci sono solamente quattro posti ogni settimana sabato pomeriggio ciao e al prossimo video